in questo momento siamo noi io ho detto questo popolo tra l'altro c'è la poesia di Saba il popolo dobbiamo essere noi a trascinare questo popolo che purtroppo da troppo tempo è troppo da troppo tempo per cui noi cerchiamo io e questi ragazzi cercheremo di dare il massimo impegno poi a voi come è successo e come ho visto sicuramente questo impegno aiutateci però siamo noi in questo momento che dobbiamo essere bravi a dare per cui il messaggio non è quello aiutateci come si chiede sempre ma siamo noi a darvi se vedete che c'è lì questo impegno aiutateci perché questi ragazzi ne hanno bisogno proprio per ritrovare anche probabilmente una maggiore serenità che forse colpa anche di una squadra che sta facendo un campionato fuori dalla normalità che è il Montalcone probabilmente ci sia un po' spaventati però se questi vincono sempre non è che dipende solo da noi noi abbiamo i nostri problemi gli altri chiaramente fanno il loro percorso intanto vediamo di fare le cose per bene e col massimo impegno per cui da parte mia sicuramente c'è questa garanzia di impegnarci e di dare fondo a quello che abbiamo detto a voi poi se ritenete che questo sia il meglio sufficiente aiutateci e se no fatecelo sapere e cercheremo di andare ancora oltre con molta molta serenità perché abbiamo bisogno al di là del discorso tecnico che siete anche di molta molta serenità grazie grazie grazie